Tornando a bomba sul caso Emili, è giusto che lei replichi appunto sul discorso dell'Udc. Io ho avuto modo di incontrarmi con gli amici dell'Udc in una discussione aperta e franca e il segretario cittadino aveva già all'epoca detto che loro non avevano nessuna intenzione di entrare nell'esecutivo da subito. È evidente, noi, questo non è sicuramente una sorpresa o una novità, c'è stato nelle Marche un cosiddetto laboratorio politico che ha dato certi risultati. Questo laboratorio politico ovviamente non potrà non ripercuotersi anche in ambito locale in un'ottica che si sta verificando, si sta aprendo, ci si sta confrontando e anzi sarà sempre più pregnante, sempre più assidua alla frequentazione con tutti gli altri partiti, non solo con l'Udc, con l'Udc e con tutti gli altri partiti per sviluppare un discorso analogo a quello che è successo in ambito regionale. Quindi l'apertura di Gaspari io l'ho intesa in questo senso, anche io ho letto il giorno dopo sui giornali queste dichiarazioni, per la verità, a onor del vero devo dire che alcuni giornali lo hanno riportato con un taglio, altri con un altro, io non ero presente, però lo spirito sicuramente era quello di dire noi abbiamo avviato un percorso con l'Udc, lo abbiamo testato a livello regionale, questo nuovo percorso che poi non è sicuramente una sorpresa né una novità, quella di prendere atto che c'è a livello nazionale, un discorso di avvicinamento per un obiettivo finale che è quello del 2013, per cui si sta andando avanti in questo senso. Per quanto riguarda il discorso regionale, io non ho notizie come credo la stragrande maggioranza di noi, perché da quello che mi risulta fino a dati ieri sera a mezzanotte inoltrata, che c'è appunto questa diatriba con i verdi che sembra che stia facendo una sorta di braccio di ferro, stiamo vivendo minuto per minuto questa situazione, io credo che il governatore Spacca troverà come si dice la classica quadratura del cerchio, perché non posso immaginare che possano creare situazioni di attrito. Sarebbe una bella borta. Sarebbe sicuramente un bel calcio negli stinchi. E a parte le dimissioni dell'assessore Canducci ci sarebbe anche un consigliere comunale, Mattimucci, che in consiglio non avrebbe più l'appoggio. Ma non avrebbe, non sarebbe, se mi consentite, non sarebbe neanche immaginabile neanche dal nostro elettorale, perché se è veramente quello che si legge e corrisponde a verità, ovvero che c'erano stati comunque degli accordi presi, io credo che gli accordi vadano tenuti. Ma ripeto, io sono convinto che in politica noi sappiamo bene che spesso e volentieri quello che si dice la sera, la mattina, non è più vero. è capitato molte volte. Credo che sicuramente a livello regionale si troverà una quadratura onorevole per tutti, per cui sono fiducioso sotto questo punto di vista. E poi tornando all'inizio della settimana, a questo convulso inizio di settimana, c'è da registrare anche il fatto che, oltre un pochino a sorprendere i suoi, perché tutti attendevano un immediato respingere le dimissioni, ma è stato sorpreso anche l'Udc, perché almeno stando a quanto ha dichiarato il segretario comunale Orlandi, loro non si attendevano, non si attendono un assessorato adesso, cioè a questo matrimonio si attendevano che venisse sancito alle prossime elezioni. Ma infatti questo corrisponde, questo convalido a quello che stavo dicendo Pocanzi, cioè noi quando ci siamo incontrati l'Udc non ha espresso assolutamente nessuna volontà di entrare oggi nell'esecutivo e queste erano, voglio dire, una cosa normale, per cui anche io mi sono sorpreso a vedere quello che è stato riportato dalla stampa, poiché non credo che il nostro sindaco ne sia uscito da testa, presuppongo che ci sia stato forse qualche malinteso o mal, può anche darsi che il sindaco si sia espresso con qualche frase inappropriata, ma non era sicuramente l'ospedito di questo, perché nessuno lo ha chiesto, né l'Udc, né noi, nessun'altro, è un percorso che si è avviato, è un percorso che peraltro, devo dire, su San Benedetto, a mio avviso ha dato un ottimo risultato, perché se pensiamo al risultato di San Benedetto paragonato a quello dell'Udc provinciale e regionale, nonostante ci siano stati questi attriti che inevitabilmente in un partito portano ad avere una flessione dei voti, nonostante tutto l'Udc a San Benedetto ha mantenuto uno zoccolo duro che se ricordo bene siamo intorno a quattro e mezzo, che non è cosa da poco conto da trascurare, considerato in un contesto particolare che si è sviluppato a San Benedetto, è un percorso avviato che sicuramente troverà nelle prossime amministrative un'evoluzione sulla base di programmi che dovranno essere condivisi, perché ovviamente l'Udc non è perché si è fatto nelle Marche a San Benedetto lo fa per simbatio, perché… In un certo senso si può dire che forse l'esperimento a San Benedetto è stato anche precedente rispetto all'alleanza regionale e in questo ovviamente c'è stato un grande ruolo del parlamentare Amedeo Ciccanti che ha tessuto i contatti, è spesso in visita dal sindaco anche domani, forse ci dovrebbe essere un incontro. Questo è un fatto che molti contestano per il discorso che comunque criticano questa intromissione di Ciccanti nelle dinamiche politiche san benedettesi con le quali lui, almeno a livello di rappresentanza territoriale, avrebbe ben poco a che vedere. Poi c'è un partito, l'Udc, che comunque è spaccato perché è stato il fatto che due terzi dei suoi consiglieri comunali non appoggiano questa linea, quindi insomma la situazione è bella ingalbugliata, assento. Voi come la vedete dall'esterno? Io farei anche questa considerazione, non i due terzi, ma tutta l'Udc è eletta, realmente eletta, perché i due consiglieri, Lorenzetti e Nico, sono stati gli unici due ad essere eletti per l'Udc nel 2006. Ripeto, Costantini è stato acquisito, tra virgolette ovviamente, imbarcato in corsa, quindi tutta la rappresentanza, la rappresentazione locale dell'Udc è contro questa linea, perché? Perché i buoni consiglieri Lorenzetti e Nico si sono candidati con questa idea di alternatività alla sinistra che comunque li caratterizza e li sta tuttora caratterizzando, per carità. Ripeto, accettare dei diktat romani o dei diktat nazionali o comunque da chi rappresenta e fa il parlamentare in questa regione poi diventa anche difficile. Loro comunque sono comunque ligie e fedeli a quello che hanno chiesto in campagna elettorale, quindi rimanendo da quest'altra parte, comunque non schierandosi apertamente. Però volevo dire anche questo, che praticamente questo discorso che fa il Sindaco del lunedì, questo sbilanciamento in avanti sull'assessorato, sulla proposta di entrare in esecutivo, rientra in quella logica di confusione che anche in genero con il caso Ballarin, che in una notte in Consiglio Comunale disse tac, ho la bacchetta magica, risolvo quella questione, così lunedì tac, entra l'Udc in esecutivo. Spiazzando tutti, forse anche se stesso, perché se poi è vero, come è vero che il segretario comunale smentisce categoricamente, magari non so se smentisce sulle partecipate, questo non l'ho seguito bene. Però se è vero quello che dichiarano praticamente è stato un colpo di dato del Sindaco, ma riuscì... Però pure partecipate dicono che sarebbero interessati. Sarebbero interessati, per carità, quello nessuno... Ha una multiservizio in particolare. Nessuno, penso il segretario, si leggeva sul giornale. Per quanto riguarda, forse lui l'aveva intesa il Sindaco come una sorta di, tra virgolette, contentino, comunque di imbonimento, o comunque anche di regalia, chiamiamola così, di aver aiutato una compagine il 23 dicembre, e quindi forse in questo senso ha voluto accontentarli. Certo l'Udc, pur avendo questo sbilanciamento a sinistra, diciamo che ha rifiutato.